Un'area depressionaria ben strutturata soprattutto in quota estende la sua influenza a gran parte dell'Europa occidentale e favorisce l'arrivo di un flusso umido e instabile verso la nostra penisola. In Toscana lunedì 20 maggio nuvoloso al mattino, ulteriore aumento della nuvolosità al pomeriggio con rovesce e temporali sparsi, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime in rialzo, massime in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli piogge che saranno più intense in tarda serata. A Lucche sulla Piana temperatura minima 17, massima 24 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 15, massima 23, a Biareggio sul litorale minima 16, massima 22 gradi, martedì nuvolosità e regolare in mattinata con tendenza schiarite a partire dalla costa e residui piogge soprattutto sui rilievi.